La vogliamo ricordarvi nel 78 quando va in onda? Noi bambini abbiamo acceso il televisore sul secondo canale e abbiamo sentito suonare una cosa che faceva tipo Si trascorre in un caso Si con cittadini di mille bambini Tra le stelle sprinta e va Mangia l'irricita medica Insalate di matematica La vogliamo ricordarvi nel 78 quando va La vogliamo ricordare una cosa che faceva tipo Ma chi è? Ma chi è? Puporobot, Puporobot, magica, anche sempre fulmini, è un progetto da scudi pernici, sentire la lucidà, quando schiaccia un pulsante magico, lui diventa un libero galattico, l'orda per l'umanità. Puporobot, 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 Puporobot. Puporobot, Puporobot.